Allora, sto qua a Piazza Flebiscito, Napoli, manifestazione di tutti i negri, non so il motivo. Scendo dal pallonetto di Salta Lucia, due o tre neri con il cazzo da fuori che pisciano per strada. Parenzo, ciao, che dici? Affanculo. Allora ragazzi, la prima cosa che bisogna fare è non che... Perché mi segnalano a me questi episodi? Segnalano perché tu apprezzi i neri che pisciano per strada. Cioè, sei solidale, sei solidale con gli extracomunitari che bisognosi di fare la pipi per strada tirano fuori l'uccello e fanno... Sì, lo hai detto più volte, hai detto che bisogna capirli, bisogna in qualche modo essere... Sì, bisogna essere vicini a questa gente disperata che però in mancanza di cessi... In mancanza di cessi fai i propri bisogni dappertutto. Io dico che se lui è un ubriacone, un ultras o un giovanotto della buona borghesia milanese che fa la pipi per strada, va sanzionato così come anche il signore di colore. Comunque la gente ormai ti identifica come quello che sta vicino, è solidale. Ma la gente, a me non interessa la gente, la gente che chiama qua, involuti che chiamano qua, la gente mi abbraccia, mi dice bravo, continui con la piattaforma Rousseau, bravo, bravo, bravo.